ciao amici quando si parla di dimagrimento c'è un errore fondamentale che molte persone commettono è pensare che riusciranno a dimagrire guarda che le battutine acide non sciolgono il grasso l'errore a cui mi riferisco è ignorare le regole del metabolismo il metabolismo infatti è l'arma segreta del corpo per bruciare i grassi e mantenerci in forma ma molte delle comuni diete consigli fai da te non fanno altro che rallentarlo così invece di dimagrire si ingrassa vediamo allora insieme i 10 errori nutrizionali che rallentano il metabolismo se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi e se volete dimagrire con le mie soluzioni 100% naturali comprovate dal successo di migliaia di miei clienti potete seguire il link qui sotto in descrizione scoprire il mio programma esclusivo di dimagrimento naturale 1 mangiare troppo poco molti pensano che per perdere peso sia necessario mangiare pochissimo la verità è che le ricerche scientifiche più all'avanguardia hanno dimostrato il contrario è la qualità degli alimenti che fa dimagrire non la riduzione della quantità mangiare i cibi sbagliati anche se si mangia pochissimo rallenta il metabolismo e fa accumulare grasso e liquidi 2 evitare la caffeina la caffeina stimola il sistema nervoso centrale può aiutare a simulare il metabolismo anche il tè nero provoca lo stesso effetto l'importante è fare attenzione alle dosi gli esperti consigliano massimo un caffè al giorno di più non serve 3 mangiare carboidrati raffinati meglio preferire i prodotti integrali e ricchi di fibre che velocizzano il metabolismo 4 non bere acqua la corretta idratazione è essenziale se si vuole dimagrire un litro e mezzo due litri di acqua al giorno sono un must per chi vuole controllare il peso 5 pesticidi chimici mangiare bio non solo è più sano ma aiuta anche a dimagrire è stato dimostrato che le tossine rilasciate dai pesticidi chimici rallentano il metabolismo 6 carenza di proteine le proteine sono fondamentali per mantenere attivi tono muscolare e metabolismo oltre ai prodotti di origine animale si trovano nei legumi nella frutta a guscio e nei cereali 7 carenza di ferro i cibi ricchi di ferro sono necessari per riempire le cellule di ossigeno questo processo aiuta infatti a bruciare i grassi in eccesso il ferro è contenuto nella carne ma anche in spinaci grano saraceno mela grana intera e anche nel succo il trucco è aggiungere un pizzico di succo di limone che facilita l'assorbimento 8 carenza di vitamina d questa vitamina è necessaria per il metabolismo e lo sviluppo della massa muscolare si trova per esempio in salmone tonno gamberi e tofu se avete difficoltà ad assumerla con l'alimentazione ho selezionato per voi un buon integratore link qui sotto 9 bere troppi alcolici l'alcol ha un elevato contenuto calorico e rallenta il metabolismo un bicchiere di rosso ogni tanto va bene come ho spiegato in questo video da evitare invece super alcolici e prodotti industriali di bassa qualità 10 latticini sì o no è vero che la carenza di calcio può rallentare il metabolismo ma è anche vero che i latticini non sono la scelta migliore per tutti molte persone sono intolleranti oppure sono sensibili ai grassi saturi contenuti o ancora il loro intestino non li tollera causando colite gastrite colon irritabile i prodotti meglio tollerati sono lo yogurt bianco senza zucchero e formaggi a pasta dura stagionati a lungo ma sempre con moderazione bene amici oggi abbiamo visto quali errori evitare per non rallentare il metabolismo commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche in descrizione trovate anche il sondaggio sul dimagrimento per aiutarmi a fare contenuti sempre migliori che rispondono alle vostre esigenze ed ecco il regalino di oggi la checklist degli errori nutrizionali da evitare per dimagrire link in descrizione qui sotto vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali